Subito avanti con la terza figurazione, il New York. Prego Stefano, prego Annalisa. Bene, vediamo subito con Stefano i passi del New York per il Cavaliere. Bene, Stefano inizierà con il peso sul piede destro e il piede sinistro puntato a lato. Sul primo passo andrà a muovere avanti con il piede sinistro, effettuando però sul piede destro un quarto di giro a destra, per finire quindi in posizione check, avanti, sulla nuova linea. La posizione check, ricordate, io ve lo ripeto sempre perché è importantissima, il piede sinistro girato verso l'esterno con la gamba tesa, il corpo centrale, il piede destro dietro col tacco sollevato e il ginocchio piegato. Da qui il prossimo passo, il passo numero due, sarà indietro, quindi tornando col peso sul piede destro indietro, stendendo semplicemente la gamba destra senza spostare i piedi. Il terzo passo sarà a lato dopo aver girato un quarto a sinistra sul piede destro. Termineremo col peso sul piede sinistro e andremo ad iniziare il secondo New York. Il quarto passo sarà avanti con il piede destro, ruotando sul sinistro un quarto a sinistra, finendo in posizione check. Il quinto passo sarà indietro, quindi riportando il peso indietro sul piede sinistro, stendendo la gamba sinistra, il piede destro rimarrà puntato avanti. Ora, nuovamente, porteremo il piede destro a lato, girando però sul piede sinistro un quarto a destra per tornare nella posizione di partenza. Vediamo ancora una volta, contando i tempi, la figurazione. E due, tre, quattro, un. E due, tre, quattro. Benissimo, grazie Stefano. Chiamiamo Anna Lisa, che viene a mostrarci i passi della dama. Anna Lisa si prepara col peso sul piede sinistro, piede destro puntato a lato, con gambe ben tese. A questo punto, per effettuare il primo passo, Anna Lisa girerà prima un quarto sul piede sinistro e porterà il piede destro avanti in posizione check, con la punta ben girata verso l'esterno, la gamba tesa e il tacco dietro sollevato. Il secondo passo sarà un ritorno indietro sul piede sinistro, poggiando il tacco e stendendo la gamba. Ora, sul terzo passo, prima di portare il piede destro a lato, Anna Lisa girerà un quarto a destra e poi si sposterà a lato con il piede destro. Da qui, sul quarto passo, andrà nuovamente a girare un quarto a destra sul piede destro per portare il sinistro avanti in posizione check sulla nuova linea. ritorno indietro sul piede destro stendendo la gamba destra e lasciando il piede sinistro puntato avanti per concludere girando sul piede destro di un quarto a sinistra nella direzione di partenza e finendo con il peso sul piede sinistro spostato al lato. Adesso andiamo a contare la figurazione anche per Anna Lisa. E, due, tre, quattro, un, e, due, tre, quattro. Grazie Anna Lisa. Adesso vediamo insieme i passi del New York. Inizieremo in posizione aperta di fronte e in doppia presa. Prima di iniziare il passo Stefano staccherà la mano destra dalla mano sinistra di Anna Lisa e la guiderà con la mano sinistra a girare a sinistra stendendo il braccio avanti. E, due. Naturalmente Anna Lisa con la mano destra seguirà il braccio sinistro di Stefano. Sul secondo passo la posizione rimane invariata. Il braccio libero naturalmente sarà disteso al lato. e ritorno tirando indietro il braccio sinistro e quindi guidando Anna Lisa a girare nuovamente a destra per tornare nella posizione iniziale. Ora staccherà il braccio sinistro, quindi la mano sinistra dalla mano destra di Anna Lisa e la accompagnerà a girare a destra portando il braccio destro avanti. Adesso torniamo indietro mantenendo la posizione. Ora Stefano tornerà nuovamente col braccio destro indietro per guidare Anna Lisa a girare a sinistra e tornare nella posizione precedente, quindi in posizione aperta con doppia presa. Adesso vediamo la figurazione con la musica. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 Perfetto, grazie ragazzi.